Piegato da cinque anni di guerra tra lealisti e ribelli uti, lo Yemen non ha i mezzi per affrontare la pandemia di coronavirus. Il sistema sanitario può contare solo su 500 ventilatori per la terapia intensiva e quattro laboratori in tutto il paese in grado di eseguire i test Covid-19. Riceviamo più di 230 persone al giorno, alcune sospette di aver contratto il Covid, dice questo medico dell'ospedale di Al-Khubi. Ci occupiamo ugualmente di tutti i casi che riceviamo. Aden, sede della capitale provvisoria del governo, è stata definita dalle autorità città appestata da Covid, ma anche da febbre di dengue e malaria. I decessi sono aumentati di almeno cinque volte rispetto al normale. Save the Children segnala una media di 50 morti al giorno dal 7 maggio, 86 nelle ultime 24 ore. Il conflitto tra il governo, sostenuto da una coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita e i ribelli uti foraggiati dall'Iran, accresce lo stato d'emergenza. 14 combattenti, tra cui 10 militari filogovernativi, sono rimasti uccisi nelle ultime ore nella provincia meridionale di Abiyan. Fonti separatiste hanno anche rivendicato la cattura di 40 soldati e il sequestro di attrezzature militari.